Musica Credo una giornata importante quella di oggi perché dal senso dell'impegno di questa realtà del professor Caligiuri credo che sia un servizio che viene fatto a questo territorio complessivamente al paese per crescere la cultura della sicurezza e dell'intelligence è bene che vi sia questa partenza del corso di laurea all'Università della Calabria è il primo corso di laurea in Italia anche questo credo ha il senso di una particolare sensibilità su questi temi che c'è in questa realtà che non depurisce a far crescere in Italia e nella comunità nazionale la sensibilità su questo tema che è fondamentale per la convivenza delle nostre realtà la sicurezza è una precondizione per il sviluppo della nostra comunità dal punto di vista civile e democratico e più cresce questa consapevolezza io credo che più possano essere efficaci le azioni che noi svolgiamo grazie a tutti 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 grazie a tutti